passiamo a Chiara Ranieri dove sei questa piccolina ragazza eccola ciao ben arrivata da dove vieni da Verona da sei stata ultimamente X Factor eh Festival Show tantissime cose sì eh la cosa più importante che ho fatto quindi la più recente eh mi sono esibita all'arena di Verona in occasione del Festival Show e mi sono classificata seconda brava bravissima a te il palco prego sì sta voce che c'è di da notare mentre da strani mi sposti voi vicini stata c'è da notare stata c'è da notare ma favore stata c'è da notare 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 ecco guarda lì il fotografi grazie Chiara grazie tanti successi veramente di cuore quanti anni hai abbiamo detto quattordici un abbraccio complimenti volevo ricordare che Francesca Armiento è colei che ha realizzato le opere d'arte che state vedendo sul palco quindi un applauso a questa grande artista